Vi siete mai chiesti cosa c'è sotto i vostri piedi? Ok, diciamo sotto la suola delle scarpe e sotto il pavimento o le strade. Quando vi capita di camminare per i sentieri del parco, magari è più facile darsi una risposta. Quello che verrebbe da dire subito in questo caso, infatti, è terra. Ed è così, la maggior parte del territorio naturale delle nostre zone è coperto da terra, in particolare di argilla. In mezzo a tutta questa argilla, poi ci sono anche ciottoli, ghiaglia e sabbia. Già certo, ma tutta questa terra, da dove è arrivata? Effettivamente è stata portata nel corso di migliaia, anzi milioni di anni, ma sicuramente non l'ha mica portata una ruspa. Sono state effettivamente enormi quantità di ghiaccio durante le ere glaciali. Questa nello specifico è l'ultima glaciazione, iniziata circa 130.000 anni fa e considerata terminata circa 12.000 anni fa. Tutto questo non è paragonabile al ghiaccio del nostro congelatore, e sicuramente neanche a quello che si forma durante l'inverno. Provate però a pensare quanto peserà tutto quel ghiaccio. Avanzando, anche se lentamente, esso erode dalle montagne e da quello che si trova davanti enormi quantità di materiale, e lo trasporta con sé per molti chilometri, più o meno come farebbe una ruspa. E una bella grossa! Quando il ghiaccio poi inizia a sciogliersi, deposita piano piano tutti i detriti raccolti e trasportati. Con lo scioglimento ovviamente si formano però anche numerosi corsi d'acqua, che proseguono anch'essi il processo di erosione e trasporto. Ecco che abbiamo risposto alla domanda, cosa ci fanno tutti questi sassi, sabbia e argilla? Il territorio del Parco Pani, quindi, è il frutto della modellazione fluvio-glaciale ad opera proprio della continua erosione e trasporto da parte di ghiacciai e fiumi o torrenti. Un occhio attento può ancora trovare le tracce di tutto questo, come i terrazzi e le colline moreniche, che danno l'aspetto su più livelli all'alta Brianza, e, ovviamente, il torrente Molgora, che mostra gli strati di suolo e le rocce sottostanti, dette conglomerati. Abbiamo capito, inoltre, che i sassi che troviamo in giro da queste parti si sono fatti un bel viaggio prima di arrivare fino da noi, ma non è nulla in rapporto alla vita intera che può avere una di queste rocce. Ad esempio, un semplice granito trovato nel torrente Molgora lo chiamiamo Vito, e la sua storia è davvero incredibile. In origine, diciamo un tempo imprecisato, più di un miliardo di anni fa, sarà stato magma all'interno del nostro pianeta, che, risalendo piano piano fino ad arrivare in prossimità della crosta terrestre, si sarà raffreddato lentamente. Poi, nel corso di milioni di anni, in seguito al movimento delle placche della crosta terrestre e dell'orogenesi, potrebbe essere giunto ad alta quota in montagna. Lì sarà rimasto per migliaia di anni, lavato dalla pioggia, dalla neve e spazzato dal vento, finché il ghiacciaio un giorno lo ha staccato dalla roccia e lo ha trasportato con sé durante la sua avanzata, per depositarlo, infine, da qualche parte nei pressi di quello che ora è il torrente Molgora. Non tutte le rocce avranno le origini di Vito. Possono averne di diverso tipo. Le distinguiamo in rocce magmatiche, rocce sedimentarie e rocce metamorfiche. Le rocce magmatiche sono quelle che hanno avuto origine dalla solidificazione del magma. Alcune, come Vito, le chiamiamo rocce magmatiche intrusive, perché avranno avuto origine dalla solidificazione lenta del magma all'interno della crosta terrestre. Altre, invece, le chiamiamo effusive, ovvero che hanno origine dalla solidificazione rapida del magma in seguito alla fuoriuscita. Le rocce sedimentarie, invece, sono quelle che hanno avuto origine da altri detriti. In precedenza, prima di diventare delle vere e proprie rocce, magari erano detriti di argilla, di sabbia o di ghiaia. Le rocce metamorfiche, infine, come dice la parola stessa, sono rocce che si sono trasformate a causa di pressione e temperatura molto, molto alte. Ebbene sì, quello che vediamo oggi è il risultato microscopico di milioni e milioni di anni di avvenimenti precedenti che si sono susseguiti uno dopo l'altro fino a dare origine quello che abbiamo davanti ai nostri occhi e quello su cui camminiamo. Il processo continua tuttora e continuerà negli anni a venire, ma le rocce e i cosiddetti sassi conservano molte delle informazioni riguardanti la storia del nostro pianeta, essendo spesso le cose più antiche e durature che possiamo osservare. Quando passeggiamo per i sentieri del Parco Pane teniamo conto quindi di tutto questo e proviamo a ricordare i milioni di anni che sono servite per dare origine a quello che vediamo oggi. Proprio perché ci è voluto così tanto tempo per crearlo, tuteliamo il nostro prezioso patrimonio. Grazie. 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 Grazie.